peggio di me sono quelle che decidono di fare i figli a 50 anni perché i bambini sono sempre una gioia il primo figlio a 50 anni tu prova a non dormire per un anno tutte le sere e vedi come la gioia ce l'hai tutta qua ce l'hai la gioia prova a seguire un bambino che è gattona a 50 anni quando lui comincia a camminare tu smetti avete presente quando vi dicono è se rompi un vaso e poi provi a ripararlo non sarà mai più come prima ecco ricordatevi che questo vale pure quando rompete i coglioni tu che cosa vuoi che cosa vuoi non è così semplice che cosa vuoi se non mi dite che cosa fai nel tuo tempo libero cosa faccio nel tempo libero spio la gente no io mi diverto ma di giro con gli amici lo so